Si può essere pronti a farsi saltare in aree, a morire e far morire decine di infedeli e poi scoprire che quello per cui si era pronti a sacrificare la propria vita non era la via per la vita eterna. Che cosa succede nella testa di un adolescente destinato al martirio che scopre che quello per cui era pronto a morire era una grande bugia? Becker è tutto questo, un mentenne che due anni fa era pronto a farsi saltare in aria e oggi un secolarista atio, come ama definirsi lui. Grazie a tutti.